Buongiorno, sono Alfonso Nobile, rappresento qui a Udine il movimento politico indipendentista siciliani liberi. Indipendenza non vuol dire separatismo, non vuol dire chiudersi al mondo, ma vuol dire avere uno Stato sovrano che abbia buoni rapporti con tutti gli Stati del mondo. Evidentemente per ottenere l'indipendenza senza traumi dobbiamo passare attraverso una forte autonomia e per noi non c'è nulla di meglio che con l'autonomia che la richiesta della piena applicazione del nostro statuto autonomista. Ovviamente autonomia vuol dire anche responsabilità. Responsabilità è un concetto che si lega filo doppio anche con l'ambiente, rispetto per l'ambiente. Problema che è comune a tante realtà in Italia, perché Gela, Priolo e Melilli in Sicilia fanno il paio con Marghera in Veneto e con Taranto in Puglia. La nostra proposta è quella di far adottare il nostro statuto a tutte le regioni d'Italia, magari anche aggiornandolo, anche l'eurozona però deve essere riformata. La moneta unica sta distruggendo le economie. Noi proponiamo di avere delle monete complementari e che si trasformi l'euro da moneta unica a moneta comune. Grazie.